Ora per il Montevarchi, toccando ferro quanto si vuole, la meta è davvero vicina. 3-1 al Frullini di Chiusi, campo sintetico dove gli avversari non hanno certo fatto concessioni. Aquila alle prese con l'influenza che mette fuori causa Stefanelli e lo stesso capitano Daveri. Comunque in panchina entrerà nella ripresa. Out per squalifica, Francesco Brocci torna in difesa, Riccardo Bartolozzi. In avanti Renzi è l'ispiratore di Vangi e Sguera. Dirige un extra regionale, Matteo Matera, della sezione di Roma 1. Subito bella partita con tanti tifosi aquilotti sugli spalti, ma questa è una costante, non è certo una novità. Quarto minuto, iniziativa della formazione di casa, il sinistro di Ballone in due tempi Bobini. Poi al sesto, azione da rivedere, Sguera va giù in area, l'arbitro ammonisce l'attaccante aquilotto per simulazione. Al nono, ecco il vantaggio, Maramaldeggia in area, Ferri, il cross è vellutato, Sguera lasciato solo di testa. Pallonetto 1-0, sembra fatta ma il chiusi non è formazione che si arrende in casa, tra l'altro è la seconda squadra che ha segnato di più del campionato. Alla decimo, un'azione Morgantini-Ballone, Bobini chiude in angolo. E poi il capolavoro al ventiduesimo, punizione su Ballone e il sinistro di Don Garrà, specialista 1-1. Niente da fare per Bobini. Il destro di Vangi al ventitresimo in area, l'ultimo segnale del Montevarchi nel corso del primo tempo. Il chiusi sale, Bartolozzi sbaglia il rinvio al quarantesimo, carambola su Ballone e Bobini si salva. Nel secondo tempo probabilmente il chiusi si attendeva un'altra partita, invece l'Aquila a portarsi subito in vantaggio con un gran gol di Alessio Renzi. Dopo una conclusione di Mannella, la respinta su Sguera, il colpo di tacco esterno, no look alla cieca. Un gol da rivedere molte, molte volte. Renzi abbonato alle reti pesanti. Al settimo ancora Ferri per Renzi, stavolta l'ex Lancini compie il miracolo. Al ventesimo, veloce Sguera in area, il destro al lato di Poco. Al venticinquesimo esce Sguera per Daveri, ma è sempre e solo Montevarchi sostenuto dai suoi tifussi. Al trentasettesimo, iniziativa di Daveri, la sua conclusione viene deviata. E al quarantaduesimo si chiude il conto con la grande rete di Leo Mannella. Un destro, si diceva un tempo, alla Del Piero. Fate voi applausi per la rete di un ragazzo. 96 ed è la quinta in campionato. Festeggia il Montevarchi, vince anche il Grassina. Ma a questo punto l'importante era far risultato qui, dove nessuno ti ha concesso nulla.